Ciao, mi chiamo Marta, ho 22 anni e vivo Vicenza. Studio Scienze della Comunicazione all'Università di Padova e sto per laurearmi, tra l'altro focalizzando la mia tesi sui travel blogger. Ora che sto terminando il mio percorso di studi, spero di realizzare sempre di più la mia passione del viaggiare e non solo visitando i posti da turista, ma anche vivendo con le persone del posto. Ho sempre adorato prendere aerei e treni, ma mi piace anche spostarmi in macchina per visitare gli angoli più remoti e vedere tutti i paesaggi nei luoghi che visito. Il mio sogno sarebbe quello di farlo a bordo della Jeep Wrangler 4xE, del colore azzurro, che è il mio colore preferito e mi dona sempre calma, sicurezza e luminosità. Sono una persona che ama l'ambiente e grazie alla soluzione elettrica di Jeep le avventure in mezzo alla natura sarebbero sostenibili. Inoltre con altre donne avventure a bordo, il viaggio sarebbe un'occasione per creare bellissimi rapporti e divertirsi insieme. Che dire, io sono pronta per partire, sono anche una scout, quindi lo spirito di adattamento non mi manca e stare in mezzo alla natura per me è l'ordine del giorno. Spero di partire con voi!